Quando io faccio il video, vado a cercare la macchina. Vado a cercare di parlare un quattro inizio e non c'è parlato. Vento, di sinistra. Io, mi dico sempre... I sinistra, sentite. Andate ancora a festeggiare il primo anno. Dove i primi posti ammazzati per i posti di lavoro su Dio e Pietranza. Quando voi cominciate a fare la festa dei lavoratori, il 6 di agosto, ti venga a festeggiare. Perché fino a quando fate... Ho fatto festeggiare i primi posti. Hai pensato di scordarli molto costi. Vuol dire che ancora sei italiani. Inizio, 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 inizio. Non è normale. Comunque... Stavamo quattro anni fa. Il discorso era impossibile di farlo. Ma pure che ho fostato. Ehm... Inizio, 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 inizio. Inizio, 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 inizio. ho fatto tre cose che hai scavato, ne ho fatto uno qua, io sto prima a fare un convegno in tutti i dati comunque dopo senti il sacco, prima che c'è ne immaginiamo se ti fa piacere il segno, il tempo, ti faccio fare la passata, la serata è un posto straordinario 10 di maggio, i miei patrimoni, i miei patrimoni, i miei matrimoni, veramente ma a che uomo? i posti non puro la sera, non me lo posso prendere ma so chi è stato a prendere la casa, 10 giorni qua, nel convegno ma che cosa fai? ti dai un numero con te, ti do il contatto, dai, io sono Claudio Frantello se lo ricordi, guarda il contatto Agostino, la marca, la marca, è staccato? no, la marca, la marca come? Agostino è mogliere, è mamagliosa ti è piaciuto come è ballato? si, si, si non è brava come accolta, ma sta a ballare si, eh, che è la nada con, però il seguro è bravo Buon appetito!